Io non intendo assolutamente scendere a quelle considerazioni lì. Ho già detto quello, perché ho citato un'espressione, guardi, proprio davanti, non a Montecitore, davanti a Palazzo Chigi. Proprio ci siamo fermati, lo ricordo, l'ho memorizzato questa osservazione, che è di una stupidità inaudita. Lei ha parlato del nord, cui il suo sguardo si volge. So che sulla Germania ha delle idee particolari. Ha detto, mi pare, in un convegno, che se si fosse riconosciuto subito alla Germania il diritto ad esistere con una sua presenza forte, se lo si facesse oggi, non ci sarebbero stati allora, non ci sarebbero oggi i pericoli che poi ci sono stati. Dunque lei guarda la Germania come un punto di riferimento egemone, e non la teme, ma anzi spera che ci sia questa egemonia. No, io non penso ad una egemonia nel senso politico-militare. Due volte le potenze occidentali, soprattutto Francia e Inghilterra, sono riusciti a colizzare tutto il mondo per impedire lo sviluppo della grande industria e dell'economia germanica. Adesso una terza guerra non è più pensabile. Io credo che i popoli tedeschi, uscirà una mia intervista sulla rivista Limes, che si farà bene a leggere perché pone molte delle mie idee su questo tema. Io ritengo che la Germania riprenderà il ruolo che aveva il vecchio sacro romano impero. Si è sempre detto e sostenuto che la Germania non riuscì ad avere uno Stato nazionale come la Francia, come l'Inghilterra, come la Spagna, perché rimase irrettita per azione del papato, soprattutto, nel modello di un'informe struttura. Oggi noi ci accorgiamo che quell'informe struttura è proprio mentre...